Desideri un corpo scolpito Stanco di estenuanti esercizi fisici. Senza ottenere risultati. Ora basta. La soluzione oggi è. My, Body, Tone. Un prodotto laser.com in collaborazione con Nouvelle Estetique. Per un corpo scolpito. Due manipoli speciali. Combinati con programmi preimpostati. Permettono di trattare. Addome. Braccia. Glutei. Cosce. Ginocchia. Effetto contrazione immediato. My body tone stimola maggiormente la contrazione muscolare aumentando il metabolismo, riduzione adipe 19%, aumento muscolare 16%, aumento della massa muscolare, con conseguente riduzione del volume degli adipociti. Effetti fisiologici. Cellule adipose a riposo. Aumento dellattività metabolica. Riduzione dei volumi. Lisi degli adipociti. Risultati evidenti. Effetto palestra. Per un corpo scolpito. La soluzione oggi è. My, Body, Tone. Sicuro. Efficace. Indolore. Risultati immediati. Centro estetico. Nouvelle Estetique. Chiama 08 183 47 064.